Non usciamo contenti, nel senso che nessuno di noi oggi è contento della prestazione perché comunque abbiamo fatto fatica a dare continuità al gioco, fatica proprio a stare dentro la partita e quindi oggi usciamo contenti per il risultato ma non per quello che abbiamo offerto. Loro hanno battuto davvero forte, sapevamo che avrebbero messo tanto su quell'aspetto però dal punto di vista del cambio palla poi non siamo stati fluidi per niente e quindi poi abbiamo perso secondo me soprattutto il filo nel cambio palla. In fase break quello che abbiamo fatto bene, solo che il cambio palla oggi non è mai andato non è mai stato fluido e quindi abbiamo sempre lasciato a loro la possibilità di stare lì agganciati a noi è un peccato quello perché poi, l'ho detto io durante un time out, stavamo facendo un po' un compitino e quando poi fai il compitino fai la cosa facile e noi quando facciamo la cosa facile rallentiamo e quando rallentiamo diventa un casino.